Dal Motor Show di Bologna, a voi, lo studio, noi ci stiamo facendo una passeggiata sovraelevata, una passeggiata stando fermi, non è da tutti, passare tutto il circuito qui che c'è, vedete qui sotto dove fanno le gare, il nostro DJ che si sta rilassando, e niente, stiamo camminando ma siamo fermi, come vedete, stiamo facendo le sfilate adesso. Ti sembra a modo che al tuo amico gli fai le corne, ma io non lo so, guarda, non so più cosa fare come questo qua, adesso lo prendo lo scaravento qui dal vetro, lo puto direttamente in pista, così lui si scatena con l'onda Civic, vedete l'onda Civic, l'onda Civic si vede, il nostro DJ poi ci dà una dimostrazione di bravura con i piattelli, Albertino, cosa hai da dire per inscrivere il tuo element.